In questo video vedrete come separare la base musicale, l'instrumental, da una canzone o come separare la voce dell'artista dalla base musicale, quindi entrambe le cose. Cosa ci occorre? Con questo metodo un computer è un software gratuito. Il primo passaggio è quello di andare su Google e digitare Ultimate Vocal Remover. Recatevi al sito ufficiale, quello che vi sto mostrando, lo aprite e semplicemente trovate il link per scaricare il programma. Verrete rindirizzati su GitHub, qui avremo la sezione per Windows, basterà cliccare qui, oppure la versione per Mac, quindi cliccando qui, altrimenti li avrete tutti qui incorporati. Una volta che avete individuato il file fateci un clic ed installate il programma. Al termine lanciate il programma. Vi basterà cliccare qui per andare a pescare il file che vi interessa, insomma dove cliccate cliccate, oppure prendete il file e lo trascinate qui all'interno. Dopodiché chiedete dove deve andarcelo ad esportare. Io ho messo il desktop, il formato e qui chiediamo se vogliamo l'instrumental oppure solamente la voce. Facciamo entrambe le prove. Cliccate su inizia processo e attendiamo. Benissimo, ecco il file, vediamo cosa è successo. Bene, adesso facciamo la versione strumentale. Beh, direi praticamente perfetta. Perfetta.